I finanzieri del gruppo di Locri hanno eseguito alle prime luci dell'alba un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Locri che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, e il divieto di dimora per la sua compagna Tesafun Lemlem nell'ambito dell'operazione denominata Xenia. La misura cautelare rappresenta l'epilogo di approfondite indagini coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Locri svolte in merito alla gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria al comune di Riace per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico. Nel corso dell'attività dell'indagine è emersa in modo particolare la spregiudicatezza, dicono i magistrati, del sindaco Lucano, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, nell'organizzare veri e propri matrimoni di convenienza tra i cittadini riacesi e donne straniere al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano. Per il PM ancora particolarmente allarmanti sono rilevate non solo la lunga serie di irregolarità amministrative e di illeciti penalmente rilevanti che costellavano la realizzazione del progetto, ma anche e soprattutto l'estrema naturalezza con la quale il sindaco Lucano e la sua compagna si risolvevano a trascrivere norme civili, amministrative e penali. Ma ancora nel corso dell'indagine la Guardia di Finanza ha poi raccolto inconfruttabili elementi, dicono i magistrati, circa il fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti della cittadina riacese, impedendo così l'effettuazione delle necessarie procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici e favorendo invece due cooperative sociali. La Ecorriace e l'Aquilone, le predette cooperative sociali, difettavano infatti dei requisiti di legge richiesti per ottenimento del servizio pubblico, poiché non iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla normativa di settore. Un duro colpo per il sindaco di Lucano, adesso si attendono i futuri avvenimenti.